Allora, parlavamo appunto di formazione, di preparazione delle persone, io un po' volevo fare l'osservazione, ma tante volte noi siamo coinvolti in processi di conoscenza teorici e poi la vita è pratica, un po' quello che si dice con la scuola, la scuola ti forma a livello teorico, poi se non ci sono questi tirocini che ti portano al mondo del lavoro, se non c'è un aspetto pratico c'è una grande scissione e si rischia, lo sostanzialmente è lo stesso, un po' come i convegni, l'attenzione è per i primi minuti, poi la gente si appiccica al proprio cellulare, tablet, fa i fatti propri, chatta, fa quel deve fare, non ascolta niente, se tu fai fare un assunto di quello che ha recepito è pochissimo rispetto a tutto quello che è stato detto e lo stesso per questi corsi, un'attenzione che poi è bassissima, magari si possono fare delle verifiche, se uno mette le crocette o copie da un'altra parte perché poi alla fine è così, però a livello pratico, anche se avesse risposto correttamente a tutte le domande, non c'è questa partecipazione fisica, come dire ti insegno su un manichino come si fa la rianimazione, una volta che tu l'hai fatto fisicamente ti insegno come va preso, come si sale su una scala, faccio l'esempio banale, quindi ti faccio mettere l'imbragatura, te lo faccio fare tre volte, è vero che è lungo, però a livello pratico io una volta che ho provato, ho capito come si aggancia, ho messo in testa questo benedetto caschetto della situazione nel modo corretto e non slacciato, buttato in testa, qualcosa mi è entrato più che non a livello solo teorico, perché noi siamo i grandi teorici, però poi l'uomo ragiona molto sulla pratica, non serve modo di rivoluzionare il tutto. Ma in realtà chi fa buona formazione fa già così, perché la formazione poi prevede anche l'addestramento. Allora se io devo fare un buon corso di formazione devo prevedere anche una parte di addestramento. Adesso portando l'esempio di cosa facciamo noi nei nostri corsi, noi abbiamo organizzato proprio una specifica sala dove ci sia la possibilità di simulare tutta una serie di situazioni per lavori in quota, quindi pensate sui tetti piuttosto che in spazi confinati, piuttosto che di altro genere, in cui la persona dopo che gli abbiamo spiegato cosa deve essere fatto, sostanzialmente con una spiegazione teorica, lo portiamo lì e lo facciamo provare. Come dice lei correttamente, dire che quando si cade dall'alto c'è il rischio, va bene, che se hai l'imbragatura comunque quando tu cadi, senti lo strappo, senti il peso del tuo corpo che è rilevante, che non puoi stare sospeso per troppo tempo, questo da punto di vista teorico uno diceva bene. Però quando lo provi a livello pratico? Quando li portiamo nella stanza a prove e li facciamo appendere, uno sente i suoi 70, 80, 60 kg, quello che è sul proprio corpo e dice, caspita, è importante questo aspetto, è rilevante questo aspetto del peso del mio corpo, pensa cosa mi succede, allora lì incominciano a dire, pensa cosa mi succede quando io prendo il colpo perché sto cadendo. E allora ecco che, come dice lei, sicuramente l'attenzione, la percezione anche del rischio è più importante, è più rilevante, è sicuramente fissata meglio. Quindi questi aspetti sono assolutamente, sono d'accordo, sono assolutamente fondamentali, vanno trattati, la formazione deve prevedere anche l'addestramento. Altro aspetto, stavamo parlando prima fuori onda, ci sono dei paesi, il Giappone è famoso per questo, con dei protocolli, protocolli uguali, diversi per settore, però che vanno un po' uniformati, come se lei dice, io faccio le prove pratiche, però tutti coloro che si occupano di formazione in azienda dovrebbero fare per quel settore quelle medesime prove pratiche che comprendono una tot di gamma che un ente preposto deve studiare, valutare quali possono essere, ma devono farle tutte. Invece la formazione è affidata a più entità che la fanno anche in modo diverso, molte volte superficiale, ma tanto superficiale, oppure chi fa questi corsi. Allora guardi... Sono persone che non sempre, cioè io ho visto corsi di formazione... Certo, posto che come sempre c'è chi lavora bene e chi lavora male... Però bisognava quasi un informatico. Però cosa è successo nel tempo? Inizialmente la normativa prevedeva che venisse fatta la formazione e fosse adeguata, si diceva più o meno questa cosa qui. Quindi il datore di lavoro che aveva questo obbligo in qualche modo la organizzava secondo criteri e metodi che lui riteneva più opportuni e la svolgeva. Poi nel tempo il legislatore ha iniziato a predisporre delle legislazioni specifiche, sono degli accordi di solito tra gli stati, regioni, insomma, una normativa particolare che va a indicare quelli che sono i contenuti minimi dei percorsi formativi, le durate minimi dei percorsi formativi, le caratteristiche dei docenti. Quindi si è andato a vincolare delle caratteristiche di qualità dei corsi. Ma cos'è successo? Perché poi c'è il risolto della medaglia. che molti hanno capito che quelli che erano i percorsi minimi, le durate minima, è scritto così, erano quelle sufficienti. E quindi oggi si fa una formazione sostanzialmente standardizzata rispetto a questi requisiti minimi imposti dal legislatore senza pensare, senza capire o dimenticando che in realtà la formazione deve essere adattata su quelle che sono le reali esigenze. Ora, se per legge dicono che è 8 ore la durata minima, ma io devo trattare argomenti che ne richiedono 16, dovrò farne 16. Invece in azienda si dice, ah no, quanto è la durata? 8 ore? Beh, facciamo 8 ore. Punto. Quindi quello che lei dice, cioè che deve esserci un intervento sostanzialmente del legislatore che vada a dare dei vincoli minimi, è avvenuto, solo che poi è stato interpretato come dire quei vincoli minimi sono quelli sufficienti dai più. E quindi chi vuole adesso fare una formazione diversa per cui vai in azienda e dice, no, ma se questa è la tua esigenza, anziché 8 ore devo proportene 12, altrimenti non riusciamo a trattare gli argomenti, ma come 12? Ma se è 8? Bisogna mettersi a discutere, a capire e poi magari, come dicevamo prima, siccome c'è anche chi lavora peggio, arriva un altro e dice, no, guarda, io ho 8 ore e faccio tutto e si fa tutto. Quindi l'intervento, tante volte, normativo, specifico, ha anche un aspetto negativo che è quello di far di perdere di vista qual è il vero obiettivo, che era quello originario, fare formazione adeguata. Sono più reticenti i lavoratori o i datori? Beh, direi che metà è metà, nel senso che ognuno ha le sue colpe. Il lavoratore, allora, perché il lavoratore sia coinvolto, deve vivere all'interno di un'azienda in cui la cultura della sicurezza è vissuta come un qualcosa di vivo, di attivo, altrimenti, come dicevamo prima, sempre rimanendo nell'ambito della formazione, il corso viene subito, non viene vissuto. Se l'azienda invece ha questa cultura della sicurezza diffusa, il lavoratore partecipa molto volentieri. I corsi vengono molto bene, i corsi di formazione, perché i lavoratori sono estremamente interessati, vitali, portano esperienze, si confrontano, anche perché un'attività formativa consente anche a chi partecipa di confrontarsi, quindi non c'è solo un rapporto tra docente e formati, ma c'è anche tra formato e formato, quindi un confronto e uno scambio di idee. Perciò quello che è fondamentale, come dicevamo prima, questo concetto di cultura della sicurezza di cui si parla sempre, che sembra, come dire, un qualcosa che ormai, vabbè, ogni volta che si parla di sicurezza si tira fuori la questione della cultura della sicurezza, però in effetti è fondamentale. La cultura della sicurezza vuol dire l'abitudine, l'approccio, la mentalità attiva verso questo argomento. L'azienda deve viverla a tutti i livelli, dal dato di lavoro al lavoratore. È simile, forse anche ripetuto, del casco quando si va in moto, no? Adesso a noi, per carità in altre aree non è così, ma a noi sembra quasi paradossale dire vai in moto senza casco, ma anche tantissimi ragazzi, perché hai ormai purtroppo una consapevolezza del rischio di che cosa potrebbe succedere. Per cui c'è ormai la cultura della sicurezza del casco. Lo stesso con le cinture di sicurezza, per lo più, anche perché, vabbè, queste sennò ti fischiano e la macchina ti fischia in testa e quindi c'è anche quell'aspetto lì, quindi l'allertamento che poi ti insegna automaticamente un gesto. E qui dico che diventi automatico, era quello che intendevo dire, cioè l'automatico di mettersi il casco quando si va in moto e automaticamente io vedo che proprio i ragazzi lo mettono, a vedere che possa essere poi una moda oppure no, automaticamente ti metti la cintura perché sei abituato che se no altrimenti il fischio ti assorda perché sai, ci devono essere delle cose che diventano automatiche, prima perché ci può essere una forma di penalizzazione, no? l'allertamento sonoro, che dir si voglia, eccetera. E poi perché diventa un fatto automatico e quindi quando diventa automatico è cultura, al di là della consapevolezza o meno. Sì, sì, è vero anche questo. Cioè è un altro elemento della cultura, l'abitudine anche, no? L'abitudine, esatto. La sensibilità, l'abitudine. Però perché un comportamento diventi un'abitudine io lo devo ripetere nel tempo fino a diventare automatico, no? Esatto. E allora da un lato certo la formazione può essere l'elemento iniziale, perché io ti spiego cosa tu devi fare. Però non è sufficiente. Ma dopo deve essere rafforzato anche dai controlli o anche da una sorta di premialità. Molte aziende cercano di premiare il comportamento positivo, oltre che naturalmente sanzionare quello negativo. Ma anche perché io dico, come vengono insegnate le cose, non è che uno le dice una volta e vengono apprese, no? Vengono ripetute, ripetute. Quindi così ti richiami il sapere che c'è sempre un continuo, ripetere certi concetti finché diventano parte di se stessi. Altro piccolo capitolo. I più giovani, perché anche questa è un'altra fascia coinvolta, con questi contratti che non consentono neanche di capire in che azienda ti trovi. E anche questi sono coinvolti in modo particolare, poi noi avevamo i dati dell'ANMIL, che sono coinvolti in incidenti molto gravi, quindi con invalidità permanenti gravi. Se non arrivare alla morte, che è che sono i dati che dopo emergono nelle vostre analisi, però l'altrettanto l'essere invalido civile è un disastro per la famiglia, per se stessi, per la società e anche dal punto di vista lavorativo. Questo è un altro problema. Perché poi secondo me morte e invalidità civile sono sempre incidenti che capitano, no? L'infortunio, adesso al di là della questione etica, indubbiamente un infortunio anche non mortale, determina dei disastri in una famiglia, economici, di organizzazione, ovviamente di benessere. Quindi quando si parla di sicurezza sul lavoro si parla anche di benessere, di vivere una vita soddisfacente da parte delle persone, ma non solo della persona che lavora, di tutte le persone che sono anche attorno a questa persona che lavora. Quindi questi aspetti qui vanno secondo me veramente messi a cuore di chiunque. Non è un qualcosa che deve interessare chi lavora nella ciaieria, perché è un lavoro pericoloso e non deve interessare chi lavora in ufficio. È una questione sociale. Detto questo, per quanto riguarda i ragazzi più giovani, si torna un po' a quello che dicevamo prima, una questione di età. Così come chi diventa più anziano, più vecchio, tende a farsi male più facilmente, il giovane è tendenzialmente in esperto. Il giovane andrebbe seguito e affiancato costantemente da qualcuno di esperto che gli insegna il lavoro. Insegnare il lavoro vuol dire anche che gli insegna come muoversi, gli insegna quello che dicevamo prima, le abitudini che uno deve acquisire e la percezione del rischio. Perché probabilmente... Questo collide con la produttività dell'azienda. Perché si mette in gioco la produttività? Perché non si possono dedicare persone a seguire chi non ha esperienza? Perché devi comunque entrare subito nel ciclo produttivo, altrimenti la persona non sarebbe presa, salvo altre realtà produttive più grandi, ma noi stiamo parlando di piccole e medie imprese, no? Certo, sì. Non ho detto che sia facile, però purtroppo è un percorso che deve essere fatto, altrimenti il rischio è quello di vedersi infortunato, magari un ragazzo molto giovane con tutte le conseguenze del caso. Allora, detto questo, noi abbiamo chiuso questo capitolo, speriamo di dover dare aggiornamenti con dati migliori, naturalmente, perché voi lo fate ogni tre mesi, se non erro questo... Sì, l'aggiornamento è quasi mensile in realtà, anche se poi ha senso ovviamente vedere le variazioni su un tempo che può essere il trimestrale, per fare un po' il punto della situazione. Temiamo che, visto che si parla di ripresa, ormai da un po' di tempo, inevitabilmente gli infortuni aumentino, ma del resto le notizie degli ultimi giorni non sono confortanti. Assolutamente no, purtroppo. Cioè, purtroppo è meglio che si sia ripresa, però dovrebbero anche calare... Sì, dicevo le notizie relative, purtroppo gli infortuni avvenuti, che sembrano, no? Negli ultimi giorni, come dire, condensarsi. Assolutamente. Ingegnere, grazie, buon lavoro a voi con la formazione, naturalmente. Grazie a voi tre spettatori di averci seguito. Parleremo anche, perché giustamente ci avete scritto, ci avete denito, ma non parlate mai degli infortuni domestici, quelli che si verificano tra le pareti di casa, sono altrettanto gravi. È vero, ci sono anche quelli, ne avevamo parlato tanto tempo fa. Sì. Anche poi nel settore elettrico, avete detto, non ci dedicate tempo, in realtà sono dei settori delicatissimi, si prende troppo con leggerezza. Dedicheremo anche questo spazio, darvi anche delle istruzioni per l'uso pratiche. Grazie e buon proseguimento. Grazie a tutti.